Musica Musica Oggi nel polo fieristico di Sicilia a Fiera si è svolta l'inaugurazione di A-Sun, l'Expo del Mediterraneo della transizione energetica Tre giorni intensi tra networking, incontri, tavole rotonde all'interno della più grande area espositiva del sud nel cuore del Mediterraneo presenti le istituzioni, gli ambasciatori del Kenya e del Patto Europeo del Clima Ramonvila Ecco cosa ci hanno detto i nostri protagonisti Quanto è importante organizzare questo evento in Sicilia oggi e come questo contribuirà allo sviluppo del nostro territorio? Oggi è importante valorizzare la transizione energetica appunto perché il territorio ha bisogno di poter valorizzare tutto quello che è domani mattina, la sostenibilità Oggi guardiamo all'interno di A-Sun automobili elettriche quindi la e-mobility vediamo appunto insieme alla Commissione Europea quando riguarda la giornata della mobilità sostenibile vediamo dall'altra parte invece negli altri padiglioni energia rinnovabile prodotta non solo dal pannello fotovoltaico tradizionale che conosciamo tutti ma come parlava poco anzi il Ministro anche offshore quindi la Sicilia continua ad essere protagonista nello scenario europeo per la transizione energetica Quali sono le principali misure adottate dal Kenya per la transizione energetica? In Kenya abbiamo molti initiativi per la transizione energetica prima di tutto voglio dire che Kenya è uno dei paesi che operano 93% sulle energetiche rinnovabili la maggior parte dell'energetica viene dall'energetica abbiamo l'energetica, l'energetica, l'energetica e l'energetica e l'energetica e l'energetica quindi abbiamo molti di energetiche rinnovabili che sono sviluppate in Kenya su questi progetti sull'energetica rinnovabile abbiamo già siamo il primo paese con 93% di energia pulita e lavoriamo moltissimo con energia geotermica e pannelli solari già lavoriamo con energia solare eccetera quindi per noi stiamo già lavorando tanto quale ritiene debba essere il ruolo della Sicilia nella transizione energetica in Europa? la Sicilia ha un ruolo fondamentale perché la posizione strategica è importantissima nel centro del Mediterraneo e allora può essere un esempio non unicamente per l'Italia ma anche per il Mediterraneo e la transizione energetica è importantissima per avere una miglia qualità della vita e una miglia sostenibilità in Europa Dei nuovi equilibri geopolitici la necessità e l'opportunità di trasformare la Sicilia in un grande hub energetico è d'accordo con questa affermazione? Come realizzare questo obiettivo? Assolutamente sì quello che sta accadendo a livello globale lo scoppio della guerra russo-ucraina prima gli altri avvenimenti geopolitici che hanno destabilizzato il mondo occidentale impongono una riflessione anche sulle fonti energetiche alternative rispetto al petrolio la Sicilia per ovvie ragioni di geocentrismo all'interno del Mediterraneo per ovvie ragioni climatiche a tutte le condizioni per diventare un hub all'interno del Mediterraneo lo sta facendo con alcuni impianti di valenza internazionale penso a Enel Green Power che ha realizzato a Catania grazie anche alla sinergia con l'amministrazione comunale la più grande Gigafactory d'Europa grazie anche a moltissime altre imprese siciliane che stanno investendo in questo settore quindi credo che la Sicilia abbia tutte le carte regole per svolgere una funzione fondamentale all'interno di un settore qual è quello della transizione energetica altrettanto fondamentale per la nostra nazione grazie a tutti